Lo aveva promesso e dopo un anno il segretario comunale della Lega Nord di Ferrara Nicola Lodi è tornato nel campo nomadi che si trova in via delle bonifiche, in un'area deserta fra il petrolchimico e la zona che porta verso il casello di Ferrara Nord. Invitando anche la stampa, Lodi denuncia che le spese messe a bilancio dal comune per mantenere quel campo non corrisponderebbero a quanto realmente speso. Il campo infatti, denuncia Lodi, in base alle carte ottenute dopo un accesso agli atti, costerebbe fra lacciamenti gas, muri di recensione e nuovi bagni circa 10.000 euro al mese, ma questi soldi secondo lui non si giustificano in base a quanto vede funzionare nello stesso campo. Siamo tornati dopo un anno per verificare le condizioni, dopo un anno c'era stato promesso dalla Giulia Bertelli, responsabile di questo campo ROM, che le condizioni sarebbero migliorate. Non è assolutamente vero, abbiamo documenti con noi che produrremo dove testimoniano che questo campo costa circa 10.000 euro al mese, soldi che vengono spesi per forniture di gas, quando qui il gas non c'è. Nel campo nomad infatti l'allacciamento all'impianto gas non funziona e gli zingari, quelli presenti nella zona, sono di etnia sinti. Per scaldarsi e cucinare usano bombole da gas acquistate direttamente da loro. C'è il deposito sotterraneo di gas, si continua a riempire, ma questo deposito è solo a se stesso, da qui non parte nessun allacciamento e nessuna fornitura. Tutti i servizi igienici, e abbiamo verificato, funzionano con dei boiler a corrente. Qui negli anni abbiamo già speso oltre 10.000 euro di rifornimenti di gas, l'ultimo è successo nel 2017. Lodi inoltre denuncia la persistenza di una perdita di acqua nei vecchi bagni, nonostante per questi, dice l'esponente della Lega, siano stati spesi soldi di rifacimento delle tubature idriche. C'è una perdita di acqua da esattamente quasi tre anni, denunciata dagli stessi abitanti di questo campo, ecco perché le fatture dimostrano 20.000 euro di consumo di acqua. Quello che ci tenevo a dire è che qui sono stati spesi, e vi fornirò i documenti, 50.000 euro di rifacimento in pianto idraulico, in questo campo finanziati dal comune. Spese che non si giustificano neanche per i nomadi che vivono nel campo. Io no, voi siete bravi, neanche il mio cane vive qua. Ma neanche il tuo cane non vive qua. Ma quindi voi dite che non vi pagano nulla, né acqua né gas. Lodi così prosegue nella sua denuncia che, annuncia alla stampa, porterà davanti alla Procura della Repubblica e parla di incongruenze di spese anche per un muro di cinta che non c'è. Una messa in sicurezza di recensione da 19.000 euro e qui il muro non c'è. Proprio loro mi hanno testimoniato, cioè qui è stato fatturato e pagato dall'amministrazione comunale una messa in sicurezza di un muro di recensione di 20 metri. Esattamente 20.000 euro in questo campo è stato speso tra lavori di rifacimento di impianto idraulico e tra messi in sicurezza 70.000 euro. I nuovi bagni, infine, quelli realizzati in un container, costano 50.000 euro, sostiene Lodi, e sono ottenuti da fondi, dice sempre l'esponente della Lega, del terremoto. Ma contestiamo assolutamente una cifra del genere per un container che potrebbe costare 10.000 euro, 15.000 euro al massimo. Grazie.